A pro del 19 aprile a Palazzo Bovara il nuovo regolamento per la tutela e il benessere degli animali, frutto di un lungo lavoro coordinato dall'assessore all'ambiente Ezio Venturini e che ha visto il ruolo propositivo e attivo delle associazioni Freccia 45, Pro Parco, Nostri Amici Animali, Amici Villa Guzzi, Zampa Micca ed Empa. Le principali modifiche che saranno discusse in commissione rispetto al precedente regolamento del Comune di Lecco, approvato nel 2007, riguardano il divieto di detenzione di animali alla catena su terrazzi o balconi per periodi prolungati o comunque incompatibili con il loro benessere psicofisico, il divieto di esercitare la pratica dell'accattonaggio mediante esibizione di animali, il divieto di destinare al commercio cani o gatti non identificati e non registrati all'anagrafe o di età inferiore ai 90 giorni. E ancora, ricorda Ciro Lamberti, presidente di Pro Parco, Nostri Amici Animali, l'individuazione delle modalità di intervento nel caso di ritrovamento di bocconi avvelenati e l'introduzione del divieto di abbandono di specie all'octone, di liberare in corsi d'acqua stagni e laghi, le tartarughe palustri esotiche e di danneggiare o distruggere nidi di uccelli con un incremento delle sanzioni che potranno giungere sino a 3.000 euro. I lavori, commenta l'assessore Ezio Venturini, sono stati coordinati e supervisionati insieme a Susanna Chiesa, presidente di Freccia 45, e Luigi Mauri, referente di Pro Parco, Nostri Amici Animali, unitamente rappresentanti dei Sodalizi, Amici Villa Guzzi, Zampa Amica ed Empa. Le associazioni che si sono adoperate in questi mesi in un corposo lavoro per formulare un regolamento che valorizzi, tuteli e soprattutto rispetti gli animali sono un valore aggiunto per la nostra città, prosegue Venturini. A loro va un ringraziamento, naturalmente con l'auspicio, che questo non sia un punto di arrivo ma di partenza in una preziosa collaborazione per futuri progetti. Le modifiche si sono ritenute necessarie in quanto negli ultimi dieci anni si è assistito ad un notevole cambiamento culturale in materia di diritti animali, sottolinea Susanna Chiesa, che aggiunge «Maggiore rispetto nei confronti delle altre forme di vita significa una più ampia coscienza e cultura». Dal 2007 il Comune di Lecco, primo in provincia, si è dotato del regolamento per la tutela degli animali, conclude Luigi Mauri. Ora, con il passaggio in commissione, l'amministrazione del capoluogo sta completando un percorso necessario e importante, integrare il documento in essere per recepire esigenze e nuove sensibilità emerse negli ultimi anni, nonché le norme introdotte di recente da Regione Lombardia, su tutte il divieto di tenere i cani legati alla catena.